Qui a Mantua il presidio del Poma è un presidio fondamentale della sanità per tutta la provincia ma è una delle pietre preziose della collana delle strutture sanitarie di Lombardia. All'ospedale Poma di Mantua abbiamo inaugurato la macchina che dà i referchi ai pazienti 24 ore su 24 in automatico. Poi ho visitato le nuove 4 sale operatorie che si affiancano alle 8 esistenti. Sono delle sale molto belle, molto spaziose, con le migliori macchine, con un uso colorato. Poi la nuova TAC PET che è una macchina molto costosa di ultimissima generazione. Poi ho visitato i lavori della nuova pediatria che stiamo facendo. Voi lavorate tutti all'Aler? Sì, certo. Allora si devono a voi questi nuovi progetti che abbiamo. Lombardia ha il compito di stabilire le linee politiche, di indicare gli obiettivi. Le aler poi, nella molteplicità delle persone e delle funzioni che rivestono, hanno il compito di tradurle in pratica. Sono qui a Borgo Chiesa Nuova, felice e soddisfatto con voi di tagliare il nastro di questa importante realizzazione che viene incontro alle esigenze abitative della nostra popolazione. Grazie a Daniele, perfetto, a lei. Grazie.